Mi sento come se stessi combattendo da cent'anni. Ti auguro di non dover mai combattere. Mille uomini. Hai sentito anche tu? Gli ho chiesto apertamente, cosa vedi in me? Un mostro? Una tentatrice? Non mi ha risposto. Guarda meglio, gli ho detto, perché io non sono le maschere che indosso. E in questo, io e Sauron eravamo qua. Non le maschere che indossa. Ricordatelo, Talion. Ricordatelo, Talion. Ricordatelo, Talion. Ricordattaro, Talion. Ricordati. Sì, ma quando lo fanno, è meglio stargli molto lontano, eppure molto vicino. Faccia umana! Sì, ma non lo fanno, non lo fanno. Sì, ma non lo fanno, non lo fanno. Uccidiamoli! Sì, ma non lo fanno, non lo fanno! Per il comandante! Sì, ma non lo fanno! Sì, ma non lo fanno! Guardate e imparate, ragazzi! Sì, un massacro di uomini così non si vede spesso. Ed è un vero peccato! Mi stavi cercando, Orko? Uomini di Gondor, non abbiate pietà! Ma e? Ma? No! Cosa... Ma? N Tanner, non so si... L' essays... Mio... ... ... ... ... N' Questa cosa è vero? Sì, non è vero! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla. Mi dissederò del tuo sangue. Non vuole restare giù! Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. 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 È quel maledetto Tark! Sì! Non posso cadere prigioniero! Non lasciate che mi prenda vivo! Quella che vi è ti fatto male, arrivo! Entriamolo! Non ci vedo il vinto! È finito qui!